ciao a tutti e bentornati sul mio canale youtube in questo video avevo impostato la pescata sul calasole scandagliando non avevo visto niente di davvero interessante eppure sentivo che in quello spot a quell'ora qualcosa di bello poteva venire fuori scendo su un fondale di circa 40 metri di sabbia mista a roccia la poca luce l'acqua velata consentono un'ottima visibilità eppure quasi subito intravede il branco di dentici nervoso che mi gira intorno come potete vedere il fondale è abbastanza piatto per cui non ho un vero e proprio nascondiglio spero più che altro nella curiosità del branco ma all'inizio sembra non volerne sapere i pesci si mantengono tutti al limite della gittata del fucile mi identifico uno particolarmente grande e lo tengo sott'occhio tutto il tempo aspetto un suo passo falso ad un certo punto sento il motore del gommone che si accende provo l'ultimo richiamo lui si gira il tiro è preciso e decido di forzare il pesce staccandolo dal fondo per evitare inutili rischi dopodiché apro il mulinello e penso soltanto alla mia risalita staccando godetevi il recupero di questo bel pesce che alla bilancia segnerà 10 kg andré, stai sempre più avanti Se vi è piaciuto questo video vi chiedo di iscrivermi al mio canale e continuare a seguire le prossime avventure. Ciao a presto! E vai con la lacca!